In visita nella città di Molfetta il console generale del Venezuela Napoli per la giornata consolare itinerante che ha incontrato l'associazione Molfettesi nel mondo e di numerosi cittadini italo-venezuelani residenti a Molfetta tra cui il presidente Marco Vito De Virgilio. Incontro istituzionale anche con il commissario prefettizio Mario Passerotti e con la cittadinanza al fine di illustrare le attività consolare a favore dei cittadini italo-venezuelani, la situazione politico-economica e di numerosi progetti in atto e da attuare in Venezuela che potrebbero interessare gli imprenditori molfettesi. Noi siamo qui per onorare il lavoro che è stato fatto già precedentemente da altri consoli ed effettivamente questa conferenza tende ad illustrare l'agenda economica bolivariana, i 15 motori produttivi che il governo sta lanciando e con le zone economiche speciali e far conoscere anche quali sono le zone più propense per l'investimento e oltre a diffondere i nostri meccanismi di integrazione che sono attraverso Mercosur, una Sur-ASA e poter in questo modo attraverso una diplomazia di pace arrivare in tutti i luoghi. Amarilis Gutierrez Graffe È la prima volta che sono a Molfetta e veramente mi sento molto onorata di essere in questa terra in cui i paesaggi e il mare è meraviglioso e in cui c'è questa bella comunità italo-venezuelana che mi accoglie veramente con molto affetto e molta qualità umana e molta solidarietà.